salve a tutti eccoci di nuovo qui a un altro episodio di pokémon verde buongiorno ragazzi siamo qui a zafferanopoli e facciamo la sylph dove finalmente i nostri cari amici del team rocket ti sono scostati per farci entrare e quindi entriamo in uno dei dungeon più lunghi del gioco davvero sì per puro caso la forma di capire se è una forma questa cosa ma non lo so sembra abbastanza basilare alla fine non è che potevano fare tanto con 15 mattonelle quanto so sembra un osso di un cane non lo so funziona l'ascensore ci siamo chiesti la stessa cosa mi sa il primo piano però è quello dove ero adesso è bello che si scuote pure l'ascensore si mi piace come l'ascensore si muove tipo beh facciamogli credere a sto cretino che sta andando da qualche parte oddio questo qua è il dungeon ecco ok grazie dell'informazione fantastico che noia ecco come capisco non so se la palestra doveva fungere da lezione di game design per questo posto viceversa però siccome hanno la stessa tecnologia ah ieri cominciamo si si riparte il nostro white christmas eh ci manca poco ormai a natale a meno che io questo episodio non si è arrivato dopo natale probabilmente arriva fino a natale questo episodio io credo che non sarebbe male avere una mappa del gioco bravo ma di perderci definitivamente oh guarda chi c'è oh ciao malum ci c'è una cosa da fare no non posso farla momento preciso non posso farla ancora nel momento ecco non saremmo riusciti comunque no voglia che non saremmo riusciti madonna eh però ce l'ha fatta raichu ah tu pensavi sarebbe morto io no ah perso beh beh amico mio se tu auto distruggi il tuo ultimo modo non è perché il mondo è il mondo io sto vando a caso quindi se non mi guidi auto distruggi è un po' perso eh sì se non mi guidi tu io vado a caso ok e più che altro sto cercando ok ci sono finora dove sei messo sì e comunque è presente quando dicevo che era lunga beh ci sono 11 piani oh madonna santissima bene ragazzi la serie si interrompe qui eh ci vorranno un po' di episodi è stato un piacere riprendere anche se è durata poco si si vede nel 2017 forse io tornerei alla vita facile per il momento ci hai provato un pochettino a cercare di expare gli altri e poi dici no no beh non è che ci ho provato l'ho fatto ah beh sì però se devo fare un dungeon effettivamente visto che il nostro scopo non è tanto la parte di battaglia ma le parti di storia ci sono le gran mazzate però come livelli ci siamo circle chi è circle ma non mi dico il magneto madonna ma ne manco un cerchio sono tre al massimo ma è brutta la spike però ma è figa sono un po' di ciocchi anche se i magneto e dovrebbero essere più piccoli eh sì le palle dovrebbero essere le palle dovrebbero essere più piccole e i magneti più grandi si più che altro qui sono tipo tre magnemite uguali messi insieme dovrebbero essere uno più grande e gli altri due più piccoli ah davvero? ma sta andando bene? credo o forse è sempre stato un problema di prospettiva dove devo andare? ehhh beh ci sono un po' di allenatori sparsi qui dovresti stare a destra a destra si qua lo devi fare per forza ma qui non è da dove venivo? mhm hai preso il teletrasporto tu per arrivare no? eh sì ma ora capisci che intendo appena finito madonna 5 ah sì che ci sono ci sono pure le scale e l'ascensore sì e beh vuol dire che finora qui non possiamo fare niente dobbiamo scendere ancora lo sai che questa sprite di Golbat è più bella di quella che c'è su pokemon blue? è vero è verissimo sta cosa allora più bella è un parolone però è più dignitoso di quella che c'è più dignitoso ecco sì sì il termine sa poi c'è la bocca ancora più grande e la lingua che esce e gli occhi sì ma per non parlare degli occhi eh infatti aspettavo l'ho dimenticato di mettere due i primi go sì c'è quegli occhi poi sono i primi cioè che poi qui sono stretti uguali però il punto è che sì però almeno guardano nella stessa direzione sì ma poi non sono non escono fuori dal corpo eh infatti queste zubbette ah è vero allora ciao devo provare a vedere come evaporeon poi ah scusa è shower ah beh giusto quasi quasi ne approfitto lo metto per primo così expo un po' ah perchè dovrebbe comunque levare un bel po' con surf si spera ah beh effettivamente troviamo questo è un un raticate vediamo come se la cava contro un raticate stesso livello pure è stesso livello madonna ihp e vabbè perchè è tancoso eh ce l'ho su su zaffiro alfa è bellissimo è un carro armato mazzo vabbè che era colpo caso però però dovrebbe anche cavarsela bene beh penso che uno zubbatt allora treva subito si beh ma sono io o non ha fatto l'animazione della pioggia stavolta? no no l'ha fatta l'ha fatta ah ok forse nel nel video di video tipo essere che era troppo il chiaro troppo veloce non si vedeva non è saggio vedi che intendevo? noi da qua siamo arrivati come scendere? di piano finchè non abbiamo la chiave per aprire le porte ma se scendiamo di piano torniamo all'ingresso? eh allora salire di piano eravamo al primo piano se fosse una cosa che andavano i sotterranei a quanto pare mi sbagliavo ci sono dei teletrasporti che non so dove portano vai perchè ero solo di starti dietro vabbè perchè i teletrasporti sono comunque siamo al quinto piano siamo al quinto piano così ah wow puoi provare ad andare a destra e ad entrare lì dentro ah ok che c'è qui? pet report pet report ok ah guarda dei quattro pokemon festival buono con lo scambio ahhhh certo è vero una volta quei quattro pokemon erano specialissimi perchè eh made ghost bully pet che cavolo ah che mi tu che sai cos'è il bully pet che siamo i tu sarebbe orribile però 160 skills as we know eh dobbiamo prendere sto cacchio di... sta chiave ma sto tizio sai che sembra un allenatore strano beh credo sia è un allenatore lo evitavo apposta sospettato e beh ma... sai com'è? io non mi ricordo se qualcuno di loro ci deve dare la chiave o la master ball no la master ball mi pare che quando arrivi dal capo della sylph si si cioè alla fine proprio insomma ah ho ancora dimenticato di mettere le cose no lo so taglio zaff eh non dai 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 le trasporto ma non lo può fare geniale forse ecco perchè all'epoca cadabra uno non non pensava neanche tanto porte beh perchè quelli dei mici ti facevano teletrasporti ti facevano fare mosse stupide ecco pure il tavolo oh è lui il tavolo? ma non può essere che l'hanno già incontrato una volta no forse no 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 comunque tavolo non... un mimo oddio non ho letto il testo era tipo un ingarbuglio di caratteri madonna le mosse speciali non gli fanno nulla eh certo lui è psico eh ma io non sapevo avessi saputo avrei lasciato quello ciarmine eh vabbè ah al quinto piano c'è la si c'è la la carta per la chiave delle porte madonna neanche... ah è vero c'è la schermo luce riflesso madonna aiuto vabbè ma conviene lasciargli taglio forse no faccio faccio furia o quello che è faccio furia o quello che è così lavo di più la fine devo fare comunque tante di mosse qui si chiama hinder proprio qui la mosse si chiama si capisci che è un modo per ostacolarti e per romperti le palle eh che poi ricordo quando tutti quando eravamo ragazzini e giocavamo a pokemon blu e rosso le mosse che non facevano danno erano considerate inutili e invece se ci pensi oggi diciamo che promuovono uno stile di gioco che è perfettamente evitabile nella storia eh ma perché la storia è talmente cioè le intelligenze artificiali non hanno quel livello di ragionamento se le vogliamo chiamare intelligenze artificiali quelle che gestiscono le lotte comunque c'è la chiave da qualche parte ma credo che dobbiamo farlo salire questo saggia scelta eh ma c'è sempre il teletrasporto eh ma basta rientrarci cioè entrarci e rientrarci dall'altra parte no? eh ma dici che che rimane il dove è messo? si pare di si oh guarda che c'è slip è come dire slip però proprio detto in maniera pokémon verder eehhh cosi come noi ci chiamiamo green e gary chissà perchè in questo is莊 stomach avranno la so's assenza di fare questi occhi chiusi così Effettivamente non lo so Sto appena notando il naso enorme Ti guardano in quel modo Sto anche notando che quello che dovrebbe essere Tipo una specie di pendolo per ipnotizzare Sembra tipo un Biscotto Un bagel Madonna E' marrone Lui come ci ha avvelenato Ma infatti ma lo sai Non credevo potesse avvelenare Però ok Ok Vediamo se riusciamo in qualche modo a passare Così Ah Ma non ha senso C'è pure una cosa di sotto C'è pure una cosa di sotto Forse dobbiamo fare la cosa che dici tu Però là sotto Ah No, di sotto nella stanza Non scendendo Ah ok Eh no Dobbiamo fare il giro Eh mi sa che è quella la chiave Il giro da sinistra Questo però Tu dici Vabbè Io mi aspetto che Rimanga dove è Invece no Lui Ah se n'è andato Finalmente posso tornare Allora ecco Qui eh Eh sì Questo Dobbiamo fare così Stato Segnalato Che Ah Ok Sì però non mi sembra Che ci stiano cercando Così tanto Aspettando che gli passiamo davanti Vabbè Sai com'è Sono Obbligati Harper Obbligati a stare nel loro posto Per l'eternità Vediamo se dopo questa battaglia Mi ricordo di mettere Vapore orne per primo Vediamo sì Vediamo se magari pure io Ti posso suggerire Una cosa del genere Perché a me è tanto Che Io stia facendo La mia parte La funta è che Appena si sbloccano Le porte Noi possiamo andare Dove vogliamo Il che diventerà Un grosso problema Perché? Perché ci sono Un sacco di posti Ah beh Ma se lo facciamo come l'altra volta Che ignoriamo L'unico Che non dobbiamo ignorare E poi dopo tre episodi Ci lamentiamo Che i nostri pokemon Sono scarsissimi Ok Eccolo Perfetto Guarda Guarda Detto che io comunque Non so preciso Come sono messi Gli oggetti Eccetera Eccetera Jingling Jingling Decorifica Ah con la card key Ok Wow utile In questa stanza Jingling Ma perché lo stesso suono Del Ok Siamo di nuovo qui Beh Io direi che con la carta Per ora Ci possiamo fermare così Sì infatti Ci placchiamo un attimo Prima di perderci Definitivamente In questo posto Ok Ci vediamo Al prossimo episodio A presto ragazzi Sì